Musica Oggi ho il piacere di incontrare su eccellenza l'ambasciatore dell'Equador in Italia che ci ha gentilmente accolto nell'ambasciata per parlare del tema del momento, della catastrofe che ha colpito il paese una catastrofe tremenda con molti danni, molte vittime presso la popolazione Ecco ambasciatore, qual è la situazione appunto, danni, vittime, persone disperse? Musica Bueno, in questo momento abbiamo 660 persone che lamentablemente hanno falleciato approssimamente 21 persone desaparecite e abbiamo 30.000 persone che vivono in alberghi e miles di persone heredate e questo nel campo dei danni e delle perdite umane è molto grande nella parte fisica, nella parte materiale, il danno è ugualmente molto grande, molto significativo Può sembrare una domanda banale perché davanti a una tragedia del genere è ovvia la risposta però come ha reagito il paese davanti a questa tragedia? Ha habito una risposta molto grande, molto grande di solidarietà, di apoyo che ha venito questa risposta tanto internamente di tutte le regioni del paese e nel exterior la comunità ecuatoriana e extranjera ha dato una risposta molto grande in Italia la risposta è stata molto significativa sia sia a través di donazioni in specie o donazioni in efectivo e la cooperazione bilaterale del governo italiano e anche una cooperazione molto importante a través dei organismi interni come la FAO e il programma mondial di alimentos Ovviamente come lei ha appena ricordato sono già molte le operazioni di solidarietà che si sono messe in moto, anche noi come Libera TV abbiamo rilanciato la vostra campagna quello che volevo chiederle è un'idea delle cifre quanto denaro, di quanto denaro si ha bisogno circa quanto serve insomma per aiutare l'Equador? Il dinero che si recaude tutto è benvenito già che le daioni economiche, le perdite economiche sono enormi stiamo parlando di billone di dollari la aiuta che si è logra va in diverse etapiche in questo rato abbiamo avuto un gran apoyo io per esempio a través del programma mondial di alimentos già che abbiamo circa di 520 mil persone che necessitano alimentare, che necessitano tener medios, tener los alimentos per la sua subsistencia il programma tiene previsto in questo rato ha avuto da 260 mil persone o unidades in questi prossimi tre mesi in questo rato già sta in 70 mil persone quindi è una aiuta molto importante dopo di questo l'Italia ha dato una aiuta molto significativa prima una aiuta a través della Cruz Roja di 500 mil dólares dopo di questo ha invito a 10 experti di evaluazione dei daioni fisici e strutturali che si hanno producito in gli edifici in le zone afectate, specialmente in Manavì e dopo di questo ha fatto firmare un accordo di reconversione di deuda per 11 milioni di dollari in favore di proiecti per proiecti di carattere sociale che vanno aiutare a paliare questo problema Davanti a situazioni del genere bisognerebbe avere un unico obiettivo da parte di tutte le forze politiche però in tutti i paesi succede sempre che poi la tragedia diventa anche strumento di lotta politica ecco, nel paese si stanno agitando forze magari per rovesciare il presidente Correa c'è qualcuno che strumentalizza la tragedia si è venuto a creare stabilità come nel resto dell'America Latina? c'è sempre voze disidente sempre va a haber voze che non stanno d'accordo che cuestionano qualche medida però ha habito una resposta in termini generali in favor di le vittime in favor di questa poblazione che ha sido golpeata per questo terremoto tan forte che a proposito è uno di dei più forti che abbiamo avuto in nostra storia e che quando ci sono accioni molte volte ci sono disidenti e non sempre stanno d'accordo le forze politiche sin embargo io credo che il obiettivo nazionale è reconstruire e supportare a questa gente e questo si lo ha fatto grazie a un forte un liderazgo molto chiaro del presidente Correa e una organizazione realmente magistral già che ora il 2 di maio due settimana dopo di questo desastro già iniziato 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 la vita tiene che seguir non possiamo buscar e pretender che il momento ha terminato sino al contrario tenemos che iniziato è un mensaggio che ha dato il governo di impulso lo podemos fare lo vamos a fare se sta impulsando molto il turismo per esempio le zone afectate e ha avuto una risposta positiva bene ambasciatore io la ringrazio a nome di Libera TV e anche come italiani siamo vicini al suo paese all'Ecuador speriamo che al più presto i problemi si possano risolvere grazie grazie a ustedes grazie a Libera TV e sobre todo por este mensaggio che 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 possono transmitirlo a nostri compatriottom un mensaggio di agradecimiento per tutti i esforzi tutti i esforzi che stanno facendo molte se gli esforzi se li faccio con il corazón e siamo consciente che è così tenemos che organizano a veci questa respuesta che podemos dar a gli esforzi di nostri compatriotto si può pareci essere contradictor però c'è una planificazione e si lo sta facendo dentro di questa linea di planificazione quindi abbiamo che andare ajustando questo la risposta ha sido molto interessante acabo di stare in Eslovenia dove ho presentato mis cartas credenziali con il ambagatore e Eslovenia ha fatto una contribuzione a través del UNICEF, che è la Agencia di Naciones Unidas per la Infancia los esforzos lo stiamo facendo, vamo a seguir facendo abbiamo abierto una cuenta di banco a través di Unicredit che sta in la pagina della pagina web della Embajada a la quali potete accettare e vanno a vedere questa cuenta è intocabile questa cuenta del dinero solo va a ir direttamente al Ecuador e per aiutare a le vittime quindi per favore i nostri amici 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 questo è un momento in cui il mio paese i nostri ecuatoriani ci stiamo a questo molto grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti